La mostra si è bella perché prova a entrare nell'innesso tra il prodotto, il design e la creatività, il processo creativo. Infatti possiamo vedere il brevetto come una specie di fotografia che ferma il processo creativo, che racconta un po' gli aspetti posteriori, laterali, un po' il back office, perché deve svelare i processi costruttivi. Dare vita a un archivio un po' noioso e un po' più istantino come l'archivio dei brevetti, dandogli la luce di un luogo dove i creativi italiani hanno depositato i loro processi costruttivi. Questo trovo molto bene. Poi la location è meravigliosa, questo gioco tra la tradizione e l'innovazione, il passato e il futuro, trovo che sia molto bello.